Eccovi. Signor Sindaco, buonasera, grazie delle belle parole che abbiamo sentito. Quando dobbiamo venire per l'inaugurazione? Stamattina abbiamo fatto il bagno giù, in otto minuti e mezzo siamo arrivati alla funeria. Lunedì 5 agosto, alle 19.30, grande iniziativa alla presenza del Presidente di la Campania di Centro di Mura per restituire il mare agli stabiesi e a tutto il territorio nostro dopo oltre 50 anni di giri e di banalismo. Parteciperà anche il Presidente Capo del Tribunale di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. Sarà una festa popolare. Intanto signor Sindaco, mi dite perché volete così tanto bene a Don Catello Malafrutti? E' una questione ontologica, il quanto è Don Catello si fa bene bene. Pasquale, vi voglio dirti di questo, che il Sindaco ha colto molto bene il rapporto tra mare e montagna e tra la spiaggia e il bagno è ottenuto a rinfrescarsi. Questo è un grande, sarà una cosa straordinaria che non c'è in nessun'altra parte del mino. Grazie signor Sindaco, mi lasciamo alle vostre ore.